Una volta mia sorella Graziella si nascose e ci abbiamo messo delle ore a trovarla. Quando la mamma le chiese, Graziella ma perché l'hai fatto? E lei rispose, così, per vedere se mi cercavate. La cercammo di nuovo quel giorno della caccia al lupo. Quel giorno che scoprimmo quante cose brutte ci sono intorno a noi. Mamma! Che è successo, mamma? Ce l'hanno ammazzata! Pietro, io voglio tornare a casa. Ho paura. Non c'è niente da avere paura. Muoviti. Pietro, ma dove andiamo? Se il papà vede che hai preso il fucile, ci ammazza. Questa volta ce la devi pagare. Ce la pagherà. Pietro, Pasquale, siete voi? Hai sentito questo rumore, Pietro? Pietro! Sto seguito di Graziella. Dove siete? Pietro! Graziella! Graziella! Pietro! Pietro!